Raffica di furti in Val Vibrata negli ultimi tempi. Dopo i casi di Sant'Omero e Sant'Egidio, la Vibrata ecco nuovi colpi a Nereto e Corropoli. I casi avvenuti a Nereto questa notte sono addirittura tre, probabilmente messi in atto dalla stessa banda. Due colpi avvenuti nella stessa zona, in via Iachini, angolo via Marconi, nei pressi del CERT. I ladri si sono introdotti prima nell'abitazione dei genitori dell'ex sindaco di Nereto Moroni, poi in casa dell'ex vice sindaco Daniele Laurenzi, attuale consigliere di minoranza. E' stato proprio lo stesso Laurenzi ad accorgersi dei malviventi che probabilmente hanno tentato anche di narcotizzarlo. In casa infatti i carabinieri avrebbero sentito un forte odore di varichina. E' accaduto intorno alle tre di questa notte, si pensa possano essere entrati in azione più persone. Il consigliere ha raccontato la vicenda del furto sulla propria pagina Facebook. I banditi sono entrati in camera da letto. Sgomento il consigliere che si è svegliato di soprassalto ritrovandosi faccia a faccia con uno di loro. A fianco a lui la moglie Valentina. A quel punto ha cercato di afferrarlo e ne è nata una colluttazione. Ma l'uomo è riuscito a fuggire portandosi con sé pochi spicci ed un orologio. Per entrare avrebbero forzato gli infissi delle persiane e della finestra. Un lavoro pulito dunque. Ma i carabinieri pensano possa trattarsi di malviventi del posto e non professionisti. Dunque non riconducibile ai furti avvenuti negli ultimi tempi in Val Vibrata. Le indagini comunque sono in corso.